Cuoco, dammene uno. Ecco a te. Sembra buono. Buon appetito. Ma quello... Ciao, Lucio. Marco, sei tu? Si può sapere cos'è quel muso lungo? Stavo soltanto pensando. Hai litigato di nuovo con tua moglie, vero? In realtà il fatto è che ho appena perso il mio lavoro. Deve essere dura. Ma allora basta che ti rivolgi a un altro studio, no? No. Ormai ho chiuso definitivamente con questo mestiere, Marco. Ah, ma dai, non abbatterti. Ci sarà sicuramente qualcuno che vorrà assumerti. In momenti del genere bisogna farsi un bel bagno e levarsi di dosso le angosce. No?